amici barasini eccoci alla carlo chiesa abbiamo un nuovo ingresso in società vi ho detto che abbiamo un mercato molto movimentato e in difesa arriva veramente qualcosa di importante e con il maximiliano achille ugge benvenuto benvenuto intera barasina direttamente in campo allora siccome ho guardato il tuo palmaresse ed è veramente bello sostanzioso importante io mi ricordo giusto gubbio triestina pavia pavia ecco monza poi va bene settore giovanile dell'inter e nulla poi mi sono concentrato tanto sull'estero negli ultimi anni quindi adesso ritorno in italia all'estero che fanno bene perché poi con il calcio è differente quindi anche una visione differente della diciamo quello che il calcio che fa tanto senti la domanda che faccio a tutti di benvenuto è intanto cosa ti ha spinto a venire qua a sant'angelo naturalmente dopo la chiamata del mio procuratore del direttore c'era poco da pensare mi ha sempre parlato bene di sant'angelo della piazza quindi un progetto importante e lo scusato a pieno quindi ci hai spiato un po sui social adesso è per forza una volta non si non si poteva però adesso voi potete capire cosa siamo che facciamo che cosa c'è su quegli spalti la domenica ma mi ricordo sono venuto tanti anni fa con l'eco qua che era andata bene per noi e male per voi però diciamo che sono contento di essere qua e non vedo l'ora di iniziare avrei dei tifosi che ogni domenica sostengono la squadra 90 minuti più recupero e quindi è proprio qua si rispira lo dico sempre ogni intervista magari sarò ripetitiva però veramente si respira pane calcio ovunque ma non solo allo stadio basta anche farsi un giro per sant'angelo e respiri proprio pane calcio che tipo di giocatori sei maximiliano sicuramente credo fisico giocatore fisico naturalmente poi credo una delle caratteristiche principali è impostare l'azione da dietro poi saranno i tifosi a vedere sarà il campo che parlerà bene maximiliano siamo contenti quindi stiamo riempiendo anche la difesa avremo anche altre novità domani ti diamo benvenuto in terra balasina maximiliano è un giocatore rosso nero grazie mille